Quasi 5 milioni di euro di beni immobili e immobili sequestrati, oltre 2 milioni già recuperati, 9 persone indagate, 2 misure cautelari personali del divieto di dimora. Sono i numeri dell'operazione congiunta della squadra mobile di Campobasso, dell'ufficio controllo dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e della Polizia Giudiziare della Procura della Repubblica, che ha consentito di scoprire una maxitruffa ai danni dell'erario messi in atto da rivenditori di auto provenienti dall'estero, gli imprenditori coinvolti operano tra il Molise e la Campania. A Campobasso la conferenza stampa congiunta. È stata disvelata una grossa truffa con reati anche di falso materiale ideologico per quanto riguarda l'importazione fraudolenta di autovetture con un grosso importo di IVA non versata e appunto illecitamente acquisita dai rivenditori. unitamente al sequestro preventivo vi sono anche due misure cautelari dell'obbligo del divieto di dimora per due imprenditori operanti nel settore del commercio delle autovetture, uno specificatamente per la regione Molise e l'altro per la regione Molise e Campania. Un'operazione che è partita nel 2016? È partita nel 2016 attraverso un'attività di analisi e monitoraggio delle entrate che aveva notato un aumento esponenziale di queste immatricolazioni di auto acquistate all'estero indagando, ha riferito alla Procura della Repubblica per alcuni fatti aventi profilo di reato e poi è stata fatta una delega di indagio alla scuola mobile e alla sezione di IPG della Guardia di Finanza. Quanti sono gli imprenditori coinvolti complessivamente? Circa una decina, laddove non è possibile recuperare proprio l'oggetto del reato con il quale è stato commesso il reato, i sequesti sono stati effettuati per un equivalente dei beni mobili, mobili registrati e mobili nella disponibilità degli indagati. E poi ci sono problemi anche per gli acquirenti? Gli acquirenti per quelli in mala fede sicuramente. Perché anche in quel caso non hanno pagato l'IVA, insomma è stata evasa l'IVA. Se c'era una compartecipazione attiva e quindi anche uno sconto sul prezzo da pagare delle autovetture risponderanno in concorso.